Ok, passiamo il turno E vediamo che succede Niente di troppo grave Niente di troppo grave Ok, ok Ah è vero, c'è ancora l'artiglieria adesso al nord Ok, quindi Questi li ripiechiamo Sì Ma prima di tutto vediamo 4, non mi dispiace Questo è un 3 Quindi Attacco Ok Avanzata 4, 2 Ok E questi li ripariamo Allora a questo punto Tu vai qua Tu vai qua E mi attacchi questi Presi Presi alle spalle Perfetto E il car armato Un po' lento Muoviamo un po' più da vicino Ok E l'artiglieria pure Purtroppo l'artiglieria è lenta Eh Eh niente Facciamo così Allora tu ripari Ok Qui possiamo sfondare Magari Continuiamo ad aggirare Sì Qui attacco questo E non mi muovo Ok Ok Qui posso attaccare questi Ok Prendiamo posizione Questi li muoviamo per di qua Mentre questi Facciamo un attacco qui Con l'artiglieria 1 e 1 1 e 2 1 e 1 Ok Ok Questi si sono Rifocillati Questi sono in movimento E qui Li abbiamo presi Questo regge Ah Potrei sfruttare questi Vediamo Questo è 3 Lo faccio fuori Quindi Neanche a sprecarci risorse Questo è un 9 Questo è un 10 Attacchiamo prima con questo Ok Ripiegano Prendiamo posizione difensiva Qui Questo è un 5 Mi piace questo E teniamo posizione E qui invece 0-0-0-0-0 Lo mettiamo dietro Vediamo se riesco a farla fuori No Con ieri Non penso Ho questi da sfruttare Ho questi da sfruttare Magari ci muoviamo Un po' qua dietro Li paracaduto qua dietro E li attacco Così quindi facciamo Quindi facciamo un movimento Così Ok Tu ho questo Mi serve a poco Quindi Muoviamo per qua su Con questo Posso attaccare Attacchiamo un attimo L'artiglieria Così Divinuisce un po' Questi qui Gli do una scorta Ma non penso Ok Ci siano altre ali ormai Ho questo qua Non mi serve Qui ormai Siamo entrati Nell'entroterra Quindi Niente Potrei comprare Un'altra unità Di rinforzo A questi Oppure Sposto questi Sì Sì Spostiamo gli ingegneri Questi qua giù Beh direi che ormai ci siamo Mancano 4 5 6 Ma niente di che Ok Provo a non arginarci Giustamente Usano quello che hanno Ma non credo Che ce la faranno A questo punto Sono tentato Di Paracadutare Questi qua giù Che qui Tutto sommato Secondo me Li sfondiamo Ok A questo punto No Devo soltanto Catturare Gli aeroporti Va bene Allora 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 Qui abbiamo sfondato Quindi Tu Vai per di qua Questo è un 2 Questo è un 1 Questo è uno 0 Attacchiamo questo Va Ok E attacchiamo questo Ok Questo niente Adesso con questi Attacchiamo questi Voilà 20 Questo va qua E mi attacca E mi attacca Questo Eh c'è solo uno Allora io questo L'ho parato Tutto qua giù Ok Tu attaccami questo Tu avanzi per la giungla Tocchiamo terra Eh questi si possono muovere Questo è un 9 Quindi Mi va più che bene Bombardamento E ci prendiamo questo Questi li facciamo Avanzare Ma questa non la voglio prendere Adesso che se no Tu uccidimi questi Voi venitemi qua Così con la camionetta pure Avanzi per di qua Questo è attaccato Questo vai per di qua Il cararmato è arrivato Quindi il cararmato Lo sposto per di qua Che poi Lo mettiamo sulla strada E via A questo punto Dirigerei Il bombardiere A far fuori questo Se ci riesco Perfetto Questo lo riportiamo A casa Questo Così per sicurezza Ah e posso ancora muovere Il cararmato Che credo Mi si possa dirigere Ok C'è l'antiaerea Allora questi li paracatutiamo Qui da lui Eh l'anticarro Questo può attaccare Boh Perché no Ok Passiamo 22 su 40 Ce l'abbiamo fatta È stata una Beh Neanche tanto lunga avanzata Zero Ok Ok C'è altro Ah ma hanno rispostato Il cararmato Va bene Non ci arriva Sì Tanti veri saluti Questo non ci arriva Questo non ci arriva Allora 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 Prima di tutto Sfondiamo questi Ah questo per attaccarlo Facciamo così Oh Con la cattura Dei Chi ero Porti nemici Abbiamo guadagnato Un gruppo di Bombardieri strategici Le loro Le loro Bombe Pesanti Potranno Minare Le difese Avversarie E aprirci La strada Per L'attacco finale Cosa che ho già fatto Ma va bene Cioè Sono più che benvenuti Questi bombardieri Quindi Facciamo Una sorpresina A questi Sì Anche perché Non c'è molto Qui da attaccare Quindi Ci muoviamo Per di qua Attacchiamo Il cararmato E va bene Sì Potrebbero No Non possono fare niente Perché ho occupato Tutti e due Quindi Bene così Allora Cararmato Vai Vai Tu Ti vuoi riparare Un po' Quattro Wow Non me l'aspettavo Ma si Paragatudiamolo Qui c'è un piccolo Ingorgo Questi Lo muovo Un attimo qua Sì So che hanno perso Efficienza Combattiva Ma Ci mandi Marines Allora Qui non c'è più niente Quindi possiamo Spostarci Sul lato Teniamoli sempre Sotto pressione Questo va bene Qui Tu ti puoi spostare Per di qua L'artiglieria Va bene qua Questo Ah c'è un campo minato Me lo sposti per di qua L'artiglieria Va bene qui Questa non ha sparato Mi sa un colpo Da quando siamo Sbarcati Beh no Forse qualcuno Cari armato Questo qui Purtroppo Non è In una buona posizione Possiamo per di qua Zero Zero Vabbè Questo può tornare a casa Ok Artiglieria Artiglieria E questo E ci sarebbe Che questo No Passiamo Si Tre unità Queste le sistemiamo Il campetto Qua lo prendiamo Si Direi che in questo video Dovrei farcela Di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, ha nominato anche il ponte. Non mica male come mossa. Lo attacchiamo. Tu mantieni la posizione e ti sposti. Perfetto. Ci siamo allora. Ultime battute finali. Questi posso ammazzarli. Ok. Questi li ammazzo. Questi potrei ammazzarli, sì. Vediamo se ce la faccio. Sì. E questi li bombardiamo. Ne ho due. Eh, va bene. Questi li abbiamo sistemati. Questo va bene così. Bombardiamo questi. Ok, ci siamo. Eh, vediamo. Fuoco alle polveri. Facciamo così, va. Ah, c'è ancora gente. Hai capito? E io che credevo di essere già arrivato. Allora, li aggiriamo. E questo che io lo sposto ho qua dietro. Queste sono le navi, non mi interessa. Ho ancora questi da muovere. Facciamo che li spostiamo per su. Ok. Ah, efficienza. Ok, questo ci è arrivato. Giù. Ok. Direi che possiamo passare. Ultimo turno, allora. Ultimo turno. Ultimo turno, allora. Ultimo turno. 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 Addio Questi pure Quello ormai è morto Qui possiamo aggirarli per benino E ormai li abbiamo presi I cannoni qui possono... no Questo si però Questo ci arriva per poco Eh Direi che abbiamo massacrato quasi tutti Rimane quello ma Va bene Non mi interessa Vabbè posso far così guarda Fatto Allora prima attacchiamo con quelli della fanteria pesante Poi attacchiamo con questi Poi attacchiamo con questi E poi attacchiamo finalmente con questi Preso Preso tutto no? Sì L'onore all'M3 Stewart Guerra Guerra Eh Scioccanti notizie Eh Cira Si perpetrano Vabbè si perpetrano Riecheggiano Ecco riecheggiano nel Pacifico I giapponesi hanno lanciato un attacco contro la flotta americana Alla base stanziata per l'arbor L'addestramento è finito capitano Siamo in guerra Ok Quindi finalmente è finito Vittoria Siamo vittoriosi E questo quindi era tutto L'apparato del tutorial del gioco E adesso ci lanceremo sulla campagna di Blitzkrieg Grazie 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 a tutti.